Allora, oggi è il giorno in cui è arrivato il momento, è arrivato il giorno, perché è bene ricordarlo, che oggi è sempre un giorno, è arrivato il giorno, il momento in cui dovremmo dare una lezione a Dredd e Franz, perché loro si credono forti a calcio, uno in porta e uno non si sa, 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 comunque, noi siamo pronti per andare a fare la sfida, Noi giocheremo in una delle loro due squadre, quindi daremo la lezione ad uno di loro due, perché sabato 7, domenica 7, saremo lì per dargli una lezione, per rompergli il culo, per fargli golle se giochiamo contro Flax, per rompergli una gamba, se giochiamo contro Flax, ci penso io, quindi io sono carico, andiamo, 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 Vai, vado, vado, dai, andiamo, andiamo Ecco, come potete vedere dalla gamba di Xenic? C'è stato un infortunio, un piccolo infortunio, diciamo, diciamo che sono partiti legamenti, è proprio un piccolo infortunio, però, vabbè, e quindi, lui non ci sarà, ovviamente, cioè ci sarà, ma non giocherà, però, Questa intro era per farvi, per dirvi, alcune cose, domenica, oddio, sembra che siamo uditi al canale, perché non me lo dico, domenica 7, giusto? Sì Alle ore 15.30, ci sarà un raduno, come avete già visto anche da Flax e da Red, faremo un raduno con partita di calcetto, e a scanso d'equivoci, la partita di calcetto non è che possono partecipare tutti, cioè, giochiamo noi youtuber, tra di noi, quindi voi siete lì, come pubblico, perché molti avete chiesto, se potete giocare, quindi non vi portate la roba, Beh, come fa bene, vive questo, insomma, e niente, saremo lì, e dalle 15.30 ci incontreremo, alle 16.00 comincerà la partita, e poi, non lo so, fate il tipo, tu puoi, tu insurti, e tutti a casa, e lì ci sarà la possibilità di comprare i biglietti per i RomaJUB, Perché noi ancora non l'avamo annunciato, ma che comunque la maggior parte di voi già sanno, si citaremo anche noi, perché l'anno scorso abbiamo presentato il RomaJUB, è stato spettacolare, Quest'anno non penso che lo presenteremo, perché sarà scritturato in maniera diversa, perciò anche se siete venuti comunque l'anno scorso, potete anche tornarci, perché non sarà la stessa identica cosa dell'anno precedente, Perché Christmas sarà molto più organizzata per questa volta, e forse porteremo una challenge con Klaus, non lo sappiamo ancora bene, Comunque, se volete incontrarci, venite domenica 7, a Tretico Sarai Mondo, al campo della chiesa Sarai Mondo Ronnato, in via del Casale Ferranti, 64, a 5 minuti a piedi dalla fermata Dall'Anina, quindi il capolinea della metro A, Poi, ancora meglio, se volete incontrarci, e oltretutto vederci anche fare qualcosa, lo stesso che facciamo qui, davanti a una telecamera, farlo davanti a voi, quindi dal vivo, Potete comprare i biglietti di RomaTube, vi lasciamo il link in descrizione del sito, dove potete comprarli, e comunque vi ripeto che lì al campo, quando giocheremo, potrete comprare, ci saranno dei biglietti fisici da poter comprare, quindi se non potete comprarli online, avrete l'occasione lì, e quindi niente, Sono stato molto utile in questo video, utile come la sua caviglia in questo momento, e per ovvi motivi, il tapirulano è sospeso, fino a che non lo riprenda a correre, diciamo, quindi, non lo so, faremo un po' di diverso, E' un esempio, magari ce l'ha solo un video, facciamo la vita della caviglia di Xenic Non so, vuoi dire qualcosa? Eeeh, no, non voglio dire nulla, dai gran anz è tutto, dalla mia caviglia pure Non so se si vede Noi ci becchiamo Come ho detto sabato domenica 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 Perché sabato gioca a Roma Domenica Tutti i link in descrizione Instagram Link di RomaTube E a RomaTube è il 22 dicembre Che è il lunedì Sono finite le scuole Non ci avete scuse Veniteci porca troia Ciao Ciao